Il corpo della Guardia di Finanza è stato sempre un punto di riferimento al quale rivolgere grande affetto. Con queste parole si è chiusa nel pomeriggio la visita del prefetto dell'Aquila Francesco Alecci alla sede della Guardia di Finanza di Sulmona, un evento storico per le fiamme gialle sulmonesi. Nessun prefetto prima di Alecci aveva visitato la sede di piazza Garibaldi. Ad accogliere il prefetto l'intero corpo dei finanzieri, guidati dal comandante regionale Flavio Agnello, dal comandante provinciale Flavio Urbani e dal comandante della Guardia di Finanza di Sulmona Luigi Falce. Presente anche la sezione Anfi che ha consegnato nelle mani di Alecci un riconoscimento. Sono profondamente legato alla Guardia di Finanza perché 40 anni fa sono stato ufficiale e tenente, racconta emozionato il prefetto. Però questo periodo è rimasto di grandissimo valore per me. ha costituito una formazione umana e professionale, direi anche tecnico-scientifica, molto importante, che mi ha accompagnato anche nel mio lavoro di funzionario del Ministro dell'Interno. Anche perché la Guardia di Finanza, dopo pochi anni, entrò assieme alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri in quell'insieme di risorse di cui il prefetto dispone, in base alla legge di riforma della Polizia, la legge 1 aprile 1981, numero 121, che innalzò il corpo della Guardia di Finanza mantenendogli quella caratterizzazione di Polizia di natura fiscale, ma coinvolgendola anche nei servizi di ordine e sicurezza pubblica a supporto dell'attività ordinariamente svolta a tale proposito appunto dalla Polizia dei Carabinieri. A Lecce ha visitato i locali della sede sulmonese e si è trattenuto a lungo a parlare con i finanzieri. Soddisfatto il comandante Falce, per noi, ha detto, è un giorno speciale. Per la prima volta la Guardia di Finanza di Sulmona accoglie un prefetto e non possiamo che essere onorati.